Qualcuno sta spargendo questa voce nell'ashram? Sadhguru si occuperà di te e non preoccuparti, non preoccuparti. Tu dormi e basta. Se fai fare gli straordinari a Dio, anche Lui se la prenderà con te un giorno, in modo tale che rimpiangerai tutto. Questo vale anche per me. Quelli che fanno accordi sono persone diverse. I devoti sono persone diverse. Se hai questo tipo di coinvolgimento, la grazia giungerà come una cascata, non a cocce. Devozione non significa Devi lo farà, Sadhguru lo farà. Chi ti ha detto questa sciocchezza? Qualcuno sta spargendo questa voce nell'ashram? Sadhguru si occuperà di te e non preoccuparti, non preoccuparti. Tu dormi e basta. Sadhguru si sveglierà e farà la tua sadhana. Con questo tipo di cose, questo paese, che era il vero un esempio stellare di processo spirituale un tempo, è diventato alquanto fatalista e contro se stesso a causa di questo insegnamento. Non preoccuparti, non preoccuparti, Dio si prenderà cura di te. Qualcuno è arrivato dalle Maurizios alcuni anni fa, quasi 25-27 anni fa. Quindi, queste sono persone tamil che sono andate lì tre generazioni fa. questa generazione in particolare non era mai venuta in India. Adesso gestiscono una certa attività e se la cavano molto bene, quant'altro. Ora hanno deciso di tornare in Tamil Nadu per fare esperienza delle loro radici. parlano ancora il loro tipo di tamil. Sono arrivati e sono atterrati a Chennai e da lì sono andati in alcuni templi e stavano tornando in auto a Coimbatore da Chennai. Così sono venuti qui e naturalmente eravamo interessati. Qual è la vostra impressione? Perché dopo tre generazioni state ritornando nella terra dei vostri antenati come vi sentite? Una cosa che hanno detto è stata sembra che in India Dio stia facendo gli straordinari. Perché? Cos'è successo? Hanno risposto stiamo guidando arrivano dei bambini che vogliono finire sotto le ruote della macchina ma in qualche modo la scampano. Qualcun altro arriva vuole suicidarsi ma in qualche modo sopravvive. Se ci facciamo caso Dio deve davvero fare gli straordinari in questo posto. Se fai fare gli straordinari a Dio anche Lui se la prenderà con te un giorno in modo tale che rimpiangerai tutto. Questo vale anche per me. Quindi devozione significa un coinvolgimento assoluto. No, Sadhguru sono un tuo devoto farei ogni cosa per me? Perché diavolo lo farei? Devozione significa coinvolgimento assoluto da parte tua. Dove non c'è alcun coinvolgimento farei qualcosa di socialmente corretto. Alcuni di voi non fanno nemmeno quello ma la maggioranza delle persone fanno qualcosa perché pensano che sia cortese farlo o sia loro dovere. Solo questo. Ma solo quando hai un senso molto profondo di amore o devozione nei confronti di qualcosa fare ogni cosa che puoi fare. Dico in ogni momento della tua vita se non fai ogni cosa che puoi fare per cosa ti stai preservando? Vuoi lavorare dalla tua tomba? Ci siete? No, le persone in questi giorni lavorano da casa quindi ti chiedo vuoi lavorare dalla tua tomba? In ogni momento della tua vita non è importante che ogni cosa che puoi fare tu la stia facendo? Quindi questo profondo coinvolgimento è chiamato devozione. La devozione non è un accordo. Sadguru ti sono stato così devoto non hai fatto niente per me non era previsto che io facessi nulla per te. Quelli che fanno accordi sono persone diverse i devoti sono persone diverse non c'è bisogno che mi succeda niente metterò tutto me stesso in questa cosa questa devozione. Solo solo questa libertà dall'aspettativa cosa me ne verrà? Cosa otterrò? se solo ti liberi da questo la tua vita è una vita benedetta semplicemente sappilo. Se solo ti liberi di questa cosa cosa otterrò? La tua vita è una vita davvero benedetta. Questo è quello che stiamo cercando di dimostrare in Isha. Migliaia di persone semplicemente lavorano come fanatici. Dall'esterno sembrano così ma sono a loro agio. chiudono gli occhi ok il mondo non esiste. Sì e il solo miracolo che hanno raggiunto nella loro vita è che il cosa otterrò è uscito dalla loro mente. Devi fare solo questo. Devozione significa solo questo. Sei liberato dal dolore dell'aspettativa. Cosa dovrebbe succedere? Cosa dovrebbe succedere? qualsiasi cosa succeda sto solamente bene. Qual è meglio? Quello che vuoi è successo è meglio oppure qualsiasi cosa succeda stai bene è meglio? Questo è tutto. Ma una volta che sei così una volta che non hai interessi personali di alcun tipo farei del tuo meglio. E questo è tutto ciò che un essere umano può fare. E una volta che non ti preoccupi di cosa otterrai diventi disponibile alla grazia. Ma non calcolare. Sadguru per tre minuti non ho pensato cosa otterrò. Quanta grazia otterrò? A dire il vero per tre minuti non ho nemmeno pensato cosa otterrò. Facevo solo il lavoro. Quanta grazia otterrò? Appartieni al mercato. Non appartieni a questa vita. In questa vita non c'è niente da ottenere. In qualsiasi modo che qualcuno ti dia una degna sepoltura o ti buttino via in ogni caso diventerai parte della terra. Ci siete? Qual è il problema? Qualcuno ci ha fatto un funerale grandioso? Fa bene. Qualcuno butta il nostro corpo là fuori? Qual è il problema? chiedo. In qualsiasi modo comunque sei parte di questo. Se mostri questo coinvolgimento che sei parte di ogni cosa che è qui diventerai disponibile alla grazia. Se pensi di essere di essere un'isola da solo e che tu sia venuto da qualche parte se pensi che accumulerai qualcosa sulla tua testa e andrai da qualche parte sprecherai la tua vita. Beh, le cose si sistemeranno intorno a te. Se stai facendo qualcosa di significativo nella tua vita le cose si sistemeranno intorno a te. Un po' di benessere tutto quanto arriverà. Ma che cos'è che stai cercando? Stai cercando la realizzazione o il benessere? Questo lo devi decidere. Se stai cercando la realizzazione della vita allora c'è bisogno di coinvolgimento. Devozione significa solo coinvolgimento indiscusso e senza freni. La devozione è solo questo coinvolgimento assoluto. Non trattenere niente. Se hai questo tipo di coinvolgimento la grazia aggiungerà come una cascata non una coccia. Una volta che la grazia è con te in questo modo la tua vita sarà realizzata. In che modo? Come? Non devi calcolarlo. Se hai un corpo una mente e delle energie che non sono un impedimento e sei disponibile alla grazia non ti devi preoccupare di cosa succederà con questa vita. Qualsiasi cosa succeda succederà la cosa più meravigliosa. Questo è quanto. è stato un po' più meravigliosa. È stato un po' più meravigliosa. È stato un po' più meravigliosa. Un po' più meravigliosa. è stato un po' più meravigliosa. Grazie a tutti.